E' stata recapitata oggi in Comune ad Imperia la lettera di dimissioni del consigliere Giulia Gorlero. Le motivazioni sono legate agli impegni sportivi del proprio club e della nazionale. Il sindaco Carlo Capacci ha espresso profondo ramarico per la scelta di una personalità importante sia per il Comune sia per la città d'Imperia che con i suoi successi sportivi e personali ha portato alto il nome degli imperiesi in tutto il mondo. Grazie.